In merito all'inserimento delle aree del Vallo di Diano, ritenute idonee all'estrazione e alla produzione degli idrocarburi, ho depositato una mozione in Consiglio regionale, ha dichiarato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Ritengo giusto che la regione Campania assuma una posizione decisa e autorevole nei confronti di un provvedimento che rappresenterebbe un vero e proprio disastro per un territorio a vocazione ambientale, paesaggistica e naturalistica. Con la mozione depositata in Consiglio regionale, si chiede di attivarsi affinché venga esclusa l'idoneità dal PITESAI del territorio del Vallo di Diano ai fini della ricerca e produzione di idrocarburi. Tale decisione è assolutamente incompatibile con gli impegni, i progetti e i documenti programmatici politici a tutela dell'area e delle sue risorse vitali. Individuare l'area valdianese quale area idonea alle prospezioni petrolifere significherebbe rinnegare i documenti strategici di indirizzo condivisi ed approvati e che vanno sempre nella direzione dello sviluppo sostenibile a forte integrazione ambientale. Abbiamo il dovere di dare un'opportunità a quei giovani, conclude Pellegrino, che hanno deciso di vivere nel territorio del Vallo di Diano e di rispettare i sacrifici che hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori. Grazie a tutti.